Ciao! Ciao! Che cosa sei venuta a fare oggi? Mi devo buttare, bravissimo, ho cominciato l'intervista, non ero pronta lì a andare. Intanto, nome e cognome? Elena Monti. Perfetto. E sei venuta qui oggi per? Buttarmi da 4.000 metri, appena scoperto tutto. E' una sorpresona questa, wow! Non l'hai capito fino ad ora, proprio questo istante, perfetto, vai! Niente, non vedo l'ora. Andiamo su a 4.000, allora saltiamoci, divertiamoci. Esatto. Dai, grazie, vanno in 5? Yes! A presto! Ecco, ti ho visto la testata! Buongiorno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.